E quante volte hai peccato, figliolo? Beh, padre, non voglio farle fare le ore piccole, quindi la aggiornerò sull'ultima infornata. Queste mani sono macchiate di sangue. Tu parli in senso figurato. Quando voglio sapere una cosa, vado a cercare qualcuno che ne sappia più di me e gliela chiedo. A volte, però, ci vado pesante. Tanto per farle un esempio, ho ucciso tre uomini stasera. Torturati prima, è stato un po' come scalare la catena alimentare. I primi due erano solo dei pesci piccoli, ma è stato Connelly che li ha pagati a indicarmi lei, padre. Buon Dio, ma siamo nella casa del signore. Mi dia un dannato nome. Rourke. Lei sfida la sorte, padre, a dirmi stronzate del genere. Non può essere lui. C'è una fattoria fra North Cross e Lennox. È tutto lì. Scoprilo da solo. E già che ci sei, chiediti se vale la pena di crepare per il cadavere di una donnaccia. Di crepare. Di ammazzare. Di bruciare all'inferno. Amen. Grazie. Grazie a tutti.